Ciao ragazze, oggi abbiamo un video e questo sarà il Makeup Challenge Makeup in 3 minuti, insomma, non so come si chiama esattamente comunque il titolo sarà giusto, poi prometto e niente, voglio fare questo video perché non so bene che video fare il suo tutorial l'ho registrato qualche giorno fa ed è in caricamento e devo darmi una truccata perché poi dopo voglio registrare un altro video e ho pensato, facciamo questo trucco e vediamo se ci riesco in 3 minuti mi sono già preparata alle cose qui vicino, così magari mi risulterà più semplice farlo e ho il timer, il cronometro, insomma, qui e comunque lo avvio e poi lo sto però io ai 3 minuti sperando di riuscirci e niente, quindi io direi di iniziare, fidatevi, se ci vedo, pronti? via! Allora, metto l'eyeliner, uso questo blu di Kiko ok punto luce con il matitone di Kiko sempre uno qui, un po' qui nell'angolo interno e lo sfumo con il dito poi magari se vi interessa, a parte questi sono i prodotti che uso opponente in tutti i miei video tipo questo matitone lo uso sempre, quindi sono a un minuto e tre mascara, io uso quello di Debbie li metto solo un po' sopra 1 minuto e 20 poi magari se ho tempo rifinisco un po' tutto vado a mettere un po' di fondotinta uso il Match Perfect di Maybelline no, di Rimmel ne metto proprio una passata giusto per omogenizzare un po' tutta la pelle blush, vado ad usare questi sono i stick di Catrice a un minuto cipria, sempre quella di Essence ok, rossetto quello di MAC il Niki ho ancora 60 secondi e vado a mettere il matitone e quello becerino anche all'interno dell'occhio voilà, sono a 2 minuti e 46 secondi trucco abbastanza semplice naturalmente non mi sono messa a fare niente di complicato però io così ci uscirai tranquillamente io spero si veda qualcosa mi sposto un po' che dite? beh, ho anche 15 secondi in più che ci faccio? niente, ormai va bene così niente, se anche voi avete fatto questo video lasciatemelo qui sotto come video di risposta ho messo anche le liner egregiamente per averlo messo in quanto in un neanche un minuto e niente, ora vi metto a registrare un altro video vi mando un bacio grande e alla prossima ciao ciao